Salve a tutti friends dal vostro supercorris, eccoci qua, pensieri domenicali del terzo tipo, ci sarebbe da parlare di varie cose, ma ho voluto fare questo video per citare innanzitutto mio nonno Bonanimo, che era una persona eccezionale, mi rimane nel cuore, oltre a essere stato un faro illuminante per la mia vita, dato che purtroppo ho perso il padre molto giovane, io, il fatto che mio nonno fosse una persona di una bontà immensa e così saggio mi ha forgiato per quello che sono ora, io ho tanti tratti caratteriali acquisiti da mio nonno e tante cose che mi rendono diverso, ma gli insegnamenti che lui mi ha dato sono insegnamenti che rimangono ben radicati nella mia mente, nel mio cuore, mio nonno era una persona che non parlava spesso, parlava nel momento giusto e diceva sempre la cosa giusta, quando riteneva opportuno farlo ora perché vi sto dicendo questo? Perché purtroppo nel 2022, soprattutto con i social, si è diffusa sempre di più la possibilità da parte di tante persone di parlare a sproposito perché tanta gente non ha quell'intelligenza sociale che gli fa capire che quando non si ha la conoscenza di un argomento oppure lo si tratta da meri ultra tifosi di quella cosa, conviene non parlare per niente perché quando si parla o si ha le conoscenze oppure lo si fa in maniera obiettiva i miei canali, sapete, sono tappezzati delle mie passioni, io sono un tifoso ultra Ferrari, sono un ultra Playstation eppure come avete potuto notare tra questo e il primo canale io parlo di Ferrari in maniera molto obiettiva, molto critica, spesso e volentieri io parlo di videogiochi e di Playstation in maniera molto obiettiva e molto critica e non mi faccio mettere i piedi addosso, io sono un ultra di Gran Turismo 7, io sono stato il più critico su Youtube Italia di Gran Turismo 7, non a caso ho fatto una recensione fiume di 40 minuti dove il gioco è stato enormemente criticato da me da amante della serie che poteva tranquillamente dire a me il gioco mi va bene lo stesso idem per Formula 1, idem per tante altre cose mio nonno diceva, parla poco e zitto troppo, che significa questo? Parla poco e zitto troppo qua da noi ci sono tanti detti che se andiamo a valutare sono tutti molto saggi e intelligenti parla poco e zitto troppo non significa che una persona non deve parlare ma una persona dovrebbe parlare quando ha la cognizione di quello che dice e sui miei canali ultimamente stiamo vedendo che purtroppo dilaga l'ignoranza e il dover commentare per forza anche se non si hanno le basi per commentare voi avete visto che io sono una persona molto coerente, che significa questo? sui miei canali non avete sentito mai parlare di aspetti tecnici per esempio sulla Formula 1, sul primo canale, ma anche qui sulla MotoGP io non mi sono mai soffermato sull'aspetto tecnico di una moto, di una macchina sull'aspetto meccanico perché non mi piace parlarne e soprattutto non ho le basi culturali per parlarne quindi perché vi devo parlare di tecnica quando non sono capace e la cosa mi annoia idem sui videogiochi, voi non mi avete sentito mai parlare dell'aspetto troppo tecnico di un videogioco o di una console o di un pc io ho sempre parlato dell'aspetto, sì, vabbè, grafica, sonoro, le cose più semplici che tutti possiamo valutare e vedere e soprattutto mi avete sentito parlare spesso e volentieri anche di aspetti extra delle emozioni, della storia che ti dà quel gioco non mi sono mai soffermato anche sulle console a parlare di aspetti troppo tecnici perché non è la mia competenza, perché non sono competenti in quell'ambito e non potrei parlarne di Teraflops, di RAM, di quello e di quell'altro invece vedo gente che si improvvisa nel parlare di cose che non sa a cuor leggero come se fosse la cosa più normale del mondo non lo è ragazzi, non lo è perché? faccio esempi banalissimi per farvi capire il discorso abbiamo parlato di Formula 1 sul primo canale c'è gente che viene eh però, tu, Binot, il motore Ferrari faceva schifo oppure Binot, qua, là, i Team Principal c'è gente che non sa minimamente la storia della Formula 1 critica Binot per il motore Ferrari che è stato sempre il top negli anni anche grazie a Binot si critica Binot per il motore non lo puoi criticare per il motore se lo vuoi criticare per l'operato da Team Principal sono d'accordo gente che adesso dopo 7-8 mesi mi viene a scrivere ancora io lo lascio ancora con lo shorts perché mi piace bannare queste persone sotto lo shorts di 7-8 mesi fa dove dissi bagnai ad atti all'ippica cascò al sax e ring buttò all'aria una possibile vittoria e c'aveva 100 punti di distacco nella classifica piloti in quel momento stava deludendo tutti dopo 7 mesi si va a commentare un video eh vergogna ti hai sbagliato non capisci un cazzo un video di 7 mesi fa cioè parlare dopo siamo capaci tutti perché la gente non ci ha messo la faccia e non ha fatto i commenti insultativi dopo quella gara anzi c'erano i complimenti sotto bravo che almeno tu lo dici capito gente che mi viene a commentare i video dei videogiochi dicendo da ultra completi perché poi critiche che non bisogna criticare quello, quell'altro, tu sopra, tu sotto ma l'ultimo ieri mi ha scritto eh Call of Duty 80 euro sono troppi che stai a di multiplayer molti perdiche Call of Duty ragazzi è diventato famoso famoso perché aveva delle campagne single player eccezionali che tutti ricordiamo dai vecchi Call of Duty Modern War dai primi Call of Duty Ghost tutti ci ricordiamo le campagne incredibili di Call of Duty ed è quello che hanno avuto successo la grafica sontuosa su tutte le piattaforme è quello che ha fatto il successo di Call of Duty che poi è arrivato l'online il multiplayer quelle sono state aggiunte noi Call of Duty lo compravamo sempre per quello per chi c'ha la mia test si ricordi i primi Call of Duty da inizio anni 2000 si comprava per quello per la campagna single player è quello che ti rimane in mente non a caso il multiplayer online che è Warzone non si paga neanche vedi che valore possa avere di così intrinseco non si paga ti spinge a spendere soldi extra ma l'atto pratico è gratis 80 euro per comprare un gioco che ti dura 7 ore di campagna che c'ha pure tantissimi difetti perché l'intelligenza artificiale è rimasta la medesima di 10 anni 15 anni fa perché in alcuni punti ve l'ho detto pure ragazzi la grafica non è tutto sto spettacolo l'ultima missione che abbiamo fatto quella là dove siamo andati nel covo dei narcotrafficanti a me non mi è piaciuta per niente io mi aspettavo su PS5 una grafica sublime invece è molto sottotono e non l'ho criticato solo io l'hanno criticato in tanti spendere 80 euro eh ma il multiplayer io l'ho provato con Giovannino appena l'ho preso siamo stati mezz'ora a giocare siamo talmente rotti i coglioni che mi hanno detto fermati lascia stare è un gioco che acquisti per la campagna ci puoi anche giocare multiplayer ma il focus è sulla campagna non a caso ogni anno quando esce Call of Duty la prima cosa che si giudica è la campagna la prima cosa che si dà il voto è la campagna no eh però per il multiplayer lo paghi 80 euro ma che cazzo ti dì ma chi ti dì se tu sei un ultra di Call of Duty non ti si può dire male non seguire questo canale perché vieni bannato come sono stati bannati quelli io mi ricordo sto fenomeno Alfio mi sa che si chiama ma sto fenomeno non mettevo mezzo video che questo non mi viene a scrivere sotto nei commenti sei un fenomeno sei il migliore sei il più grande tu qua tu là tu sopra tu sotto l'ultra del canale che sono i peggiori perché il punto primo sono gli stessi che poi lo vanno a dire dicono le stesse cose gli stessi complimenti su altri canali quando uscì Gran Turismo io feci vari video di critica perché Gran Turismo non lo dobbiamo valutare come gioco attuale lo dobbiamo valutare rispetto alla storia è chiaro che tu non puoi giudicare faccio un esempio banale l'Italia di quest'anno la nazionale è chiaro che tu non puoi giudicare l'Italia soltanto da quella che è la squadra attuale tu devi giudicare la storia se l'Italia non va ai mondiali è un disastro perché l'Italia è la seconda formazione più titolata al mondo per mondiali vinti dopo il Brasile è chiaro che è un disastro per tutto il movimento anche se la squadra attuale è un po' scarsa hai l'obbligo di andare quello impone la tua storia cioè capite che vi voglio dire è chiaro che tu non puoi valutare un Gran Turismo senza tenere in considerazione la storia senza tenere in considerazione che il penultimo episodio Gran Turismo 6 aveva 1200 macchine aveva una marea di piste una marea di contenuti quello che è uscito ora non è all'altezza magari fra tre anni lo sarà perché continuano a cacciare fuori macchine continuano a cacciare fuori piste ma fra tre anni noi che l'abbiamo pagato 100 euro il 4 marzo abbiamo avuto per le mani un gioco largamente insufficiente e ancora adesso c'è i problemi c'è i bug c'è le situazioni assurde per quanto sia comunque un ottimo gioco capito noi lo dobbiamo valutare per quello che è stata la serie non per quello che è il gioco adesso perciò vi dico io ultra persone che non sono obiettive non sono ben accette su questo canale oppure volete vedere statevi zitti statevi zitti perché non c'ha senso quello che mi viene a scrivere il pc conviene rispetto alla console costa 250 euro la serie s voglio serie s costa 250 euro con 13 euro al mese di game pass c'hai un mondo di giochi e la gente continua a dire che il pc di almeno 1200 3 4 500 euro è più conveniente ma siete normali ma volete dire se cazzate pensate pure che io vi do ragione oppure che qualcuno qua vi possa dare ragione cioè ragazzi se siete ultra di quella cosa andate sui canali che vi danno da mangiare vi sfamano perché ci stanno i canali che parlano solo bene di pc pc tutta la vita i canali che parlano solo bene di console i canali che parlano solo bene di ferrari i canali che parlano solo bene di gran turismo andate ci sono i canali solo di gran turismo solo di call of youtube andate là che state a fare qua qua si parla in maniera obiettiva di tutto io ho criticato e ho dato il dolcetto giusto quando c'era qualcosa da enfatizzare ma qua quando c'è stata critica abbiamo criticato tutto comprese le nostre passioni i nostri giochi che ci appassionavano le nostre console c'è stato da criticare tutto io ho criticato la corona sf 1000 che per me è un spettacolo l'ut300 tutto quello che c'ho qua è stato criticato con la giusta valutazione quindi senza le caricature a nessuno allora vi dico io se dovete scrivere commenti senza sapere neanche quello che state a scrivere oppure essendo influenzati dalla vostra passione che non vi fa vedere la realtà dei fatti non li scrivete i commenti ragazzi perché io che sono un appassionato di call of duty e ci sta pure mi sembra un video sul canale dove ho fatto tutti i call of duty che mi sono piaciuti a me nella storia e se no ve lo farò un video ragazzi io l'ho giocati solo sulla playstation 4 ho mollato un po' la presa se ne l'ho giocati quasi tutti dai primi cioè io che sono un ultra di call of duty vi dico che 80 euro per quello che sto vedendo su call of duty quest'anno non li vale call of duty dovrebbe essere un gioco che dovrebbe costare sui 60 euro quello è quello è e volete venire a scrivere no ma tu qua ma tu là ma tu sopra io vi banno oppure vi rispondo a brutto mose faccio capire che avete una stronzata perché non avete un giudizio equo perché siete influenzati dalla vostra passione di quella cosa non potete fare così perché così lo facevo quando avevo 12 anni e litigavamo dicevo il super nintendo quello che c'aveva il mega drive e parlavamo di cose assoluta del nulla a me è più potente il mega drive perché me l'ha detto l'amico me l'ha detto il mio cugino io sono sempre voluto essere super partes in quest'ambito e da quando avevo 12 anni la prima rivista di videogiochi l'ho comprata a 12 anni e da allora ho iniziato a studiare i videogiochi ho iniziato a studiare le cose per quello che sono ancora adesso capre che non capisco niente ti vengono a scrivere che la playstation 5 è più potente dei pc che la playstation 5 come ho scritto l'altra volta uno ho dovuto bannare poi è più potente dell'xbox series x non capisci un cazzo perché se sapessi un minimo anche se a me non mi appassiona più di tanto questo discorso sapresti che la playstation 5 è di poco ma è inferiore all'xbox series x vedi gli ultra che devono parlare a sproposito per forza non parlare non criticare uno mi ha scritto ieri nei commenti ho preso la serie 6 ho venduto la ps5 è la miglior scelta della mia vita la ps5 fa schifo no non è vero ho detto frate non è così come dici tu perché serie 6 conviene è una console che ha pregi eccezionali ma cioè se tu adesso mi vuoi valutare se eserci come meglio di ps5 no ps5 è superiore al livello di potenza c'ha tante eccellenze noi dovreste qua fare quella è meglio e quella è peggio dobbiamo valutare le cose in maniera oggettiva precisa e puntigliosa questo è quello che continuiamo a fare su tutti i miei canali a chi non gli va bene può andare altrove perché tanto qua non abbiamo messo le manette a nessuno anzi è un saluto a mio nonno ovunque lui sia ciao ragazzi è un saluto Oh, 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 oh Oh, 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 oh